Prosegue l'iter per il progetto di riqualificazione dell'area ex stazione a Cortina d'Ampezzo che ha da poco ottenuto parere favorevole da parte della Regione Veneto per la procedura VAS, valutazione ambientale strategica. Così Benedetto Gaffarini, assessore tra le altre alla pianificazione urbanistica viabilità di Cortina d'Ampezzo, si dice rincuorato per lo stato di avanzamento del progetto. Abbiamo solo qualche prescrizione che riguarda la fase di canterizzazione, e quindi si parla già di canterizzazione e questo mi rincuora molto. Siamo vicini alla chiusura della procedura amministrativa per l'approvazione del progetto che, come ricordo, una volta chiusa la conferenza di servizi che si aprirà a breve, andrà in gara e quindi qualunque soggetto potrà partecipare alla gara ed eventualmente proporre migliorie per la parte pubblica. Ricordo brevemente che si tratta di un parcheggio interrato di due piani al di sotto del piazzale dell'attuale stazione, che diventerà piazza pedonale, mentre la parte della vera e propria autostazione rimarrà percorribile dagli autobus di linea e non. Dopodiché ci sarà la ristrutturazione di tutti gli edifici esistenti, che ricordo sono vincolati e quindi non possono essere né demoliti né sostituiti, e oltre a questo verrà costruita una sala polifunzionale, una sala polifunzionale piatta, che non andrà in concorrenza con l'Alexanderol, bensì sarà una cosa che manca a Cortina, c'è una sala polifunzionale dove possono essere anche organizzate feste con servizi di catering, oppure concerti, convegni eccetera. E naturalmente ci sarà poi la parte privata, che è principalmente occupata da un supermercato alimentare e da una serie di appartamenti. Un progetto imponente che prevede un aumento di edifici del 161%, con il 29% di proprietà comunale, che certamente avrà un forte impatto per il futuro di Cortina.